È il giorno più bello della mia vita, non pensavo che era così, sono qua in Italia un anno, è tutto troppo veloce, sono molto contento con questa opportunità, devo ringraziare la società, il mister, tutte le persone che mi aiutano tutti i giorni e sono molto contento. Hai notato differenze tra la prima serie e la primavera? Quali sono state eventualmente le più grandi difficoltà? Sì, comincia che sono grandi calciatori che giocano questa partita, è un bello stadio, un bello campo, c'è tifosi, posso dire che è un clima caldo, è troppo diverso, ma è un sogno, quando arrivo in questo campo posso dire che tutte le cose che c'è va via, arrivo in campo tranquillo e faccio il mio lavoro molto contento. Qualcosa sul tuo futuro invece? Aspettiamo, aspettiamo, adesso se vado a Orondo non lo so, ma sono molto contento con come finisce la mia stagione e devo ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato.